VAIA è un nome che evoca nella memoria dei bellunesi le lunghe giornate cariche di tensione di fine ottobre 2018, ma la stessa parola può significare rinascita e azione positiva è il caso della start-up omonima con sede a Borgo Valsugana, che sta operando anche nel nostro territorio per valorizzare le piccole comunità e promuovere l'attenzione all'ambiente. L'organizzazione sta assumendo giovani talenti per una campagna di sostegno alle comunità del territorio, una bella storia di Natale in un momento in cui la voglia di guardare avanti con speranza non è mai di troppo. Al centro uno speciale prodotto, un amplificatore per telefoni cellulari realizzato con il legname schiantato dalla tempesta di due anni fa. Abbiamo coinvolto gli artigiani locali in prese del territorio, è un oggetto a chilometro zero, un progetto che guarda ai nostri boschi per farli rinascere. Milioni di alberi abbattuti, un Viacube e un albero ripiantato nelle zone colpite dalla tempesta. I nostri artigiani sono stati straordinari, hanno lavorato duramente perché le richieste di Viacube in Italia, in Europa e nel mondo sono state molte, moltissime. Tantissime persone vogliono far parte di questo progetto di rinascita di questo territorio, esprimere i propri valori attraverso un acquisto che sia sostenibile, genuino, autentico e che possa esprimere all'interno di un oggetto tutti quei valori che rappresentano le sfide della nostra società. La sostenibilità verso l'ambiente, la sostenibilità verso le piccole e medie imprese, far rilanciare i territori e sostenere l'artigianato locale. Cercando attraverso un oggetto di parlare di rinascita e di community, persone che si ritrovano intorno ai valori e hanno voglia di cambiare il mondo insieme.